Sì, la cama, spettacolo eccolo qua al lago di Cama, siamo sull'alto versante, bellissimo il Sass Castel con la piramidona che c'è qua davanti, molto bello, vai arrampica su non c'è posto per molta gente qua sopra, una bella arrampicata qua la telecamera, eccoci siamo arrivati alla vetta speriamo non mi cada la macchina fotografica ed eccoci bella, batti 5, vai, complimenti, pizzo campanile, il lago d'arengo, adesso comincio io con le mie foto Cabresasco, alla prossima, una macchina molto professionale purtroppo non si vede il Ledoux, la prossima meta non di oggi questa è la Gratella, il Soldo e il Mazza, il mio socio, l'altro l'abbiamo perso purtroppo Ale, meglio tranquilli che ok